Il nuovo Yamaha Tenere 1200 non permette di cambiare l'ABS, ma c'è un piccolo trucco per cambiare questo componente. Se hai fatto un enduro e un offroad e vuoi per stoppare la fila del rear mentre stai utilizzando l'auto, puoi cambiare facilmente l'ABS. È importante prendere la fila sull'estate centrale. Dopo questo, iniziare l'enduro e prendere la seconda posizione. In questo modo, l'ABS è totalmente sviluppato. Puoi guardare la luce dell'ABS nella componente centrale. Ora puoi usare il tuo Super Teneri su offroad senza l'ABS.